Guardate questo video e capite un po' di cose, eh? La pensione in Italia, quando la prenderemo? Pensate che in Brasile la prendano a 59,2 anni, in Messico a 65, sempre meglio di noi, Grecia addirittura a 60, Francia ha fatto le lotte per i 62 anni, e da noi, da noi, secondo me ha ragione lui, non la prenderemo mai, mai la prenderemo, la nostra benamata pensione, poveri taglioti.